Dovrebbe essere effettuata in giornata dopo il conferimento dell'incarico all'anatomo patologo da parte della Procura dell'Aquila l'autopsia su Gianmarco Zavoli di Rimini, il pilota dell'elicottero del 118 precipitato martedì scorso su un costone di Monte Cefalone a Lucoli poco dopo il valico della Crocetta in provincia dell'Aquila. L'esame autoptico è stato disposto anche sul verricellista Mario Matrella, 42 anni, pugliese, di Putignano. Per le altre quattro persone, compreso il ferito che si trovavano a bordo del mezzo, dovrebbe esserci solo una ricognizione delle salme. Ieri intanto era stata recuperata la scatola arancione che contiene tutte le informazioni comprese le comunicazioni via radio, l'ipotesi che si fa strada nelle indagini coordinate dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli e quella dell'errore umano. Sul luogo della tragedia c'era una fitta nebbia e un vento che soffiava a 40 chilometri orari. Il reato ipotizzato dal pubblico ministero è disastro aviatorio e delitto colposo. L'inchiesta non ha indagati e probabilmente non ce ne saranno proprio perché l'ipotesi più accreditata è l'errore umano. Su disposizione del magistrato sono state già acquisite le telefonate arrivate e partite dal 118 dei medici che hanno gestito l'emergenza sanitaria. Sequestrati anche i registri di volo dell'elicottero ma anche il materiale relativo alle revisioni anche presso l'azienda milanese Inair Aviation Italia che ha vinto l'appalto per il servizio di elisoccorso. I funerali delle vittime, in particolare gli aquilani Walter Bucci, medico del 118, e l'infermiere Giuseppe Serpetti dovrebbero tenersi sabato nella Basilica di San Bernardino dove già domani potrebbe essere allestita la camera ardente. Nella giornata delle sequie, come già annunciato dal sindaco Massimo Cialente, all'Aquila sarà osservato il lutto cittadino.